Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Sky Factory Oggi registriamo questo episodio della Sky Factory ma non sono contenti Sono mezzo raffreddato però fa niente Tanto che i vesti straschioppano, tanto sono io che ci metto Tranquilli Allora io direi di andare Vi ricordate la volta scorsa? Ce l'avevamo lasciati con due alberelli così Ecco cosa voglio fare oggi? Mi è venuto in mente Pensandoci oggi Vedete questo achievement book? Mettiamo il recipe Ok facciamo Uno, uno, due E tre Facciamo questo qua Con libro sopra Facciamo l'achievement stand Cos'è l'achievement stand? Allora l'achievement stand è il libro Scusate Shift tasto destro lo prendiamo Abbiamo Abbiamo questa roba qua Che sarebbe il nostro libro Giusto? Giusto? Make a dirtball composting Come ho fatto? Eh sì perché ne abbiamo due Quindi sì Ok allora Oggi abbiamo questi silkworm Aspettate che metto schermo Allora scusate ragazzi Mi è crashato Fraps Credo che non vi siete persi nulla Ho solo utilizzato questi due silkworm Sulle foglie Quindi infestando l'albero Con questo Ci danno infested leaves Quando questo qua Si espanderà Su tutto l'albero Ci darà le string Ma non è fantastico E poi Ho aspanso di due blocchi Non di più Questa roba Allora Adesso facciamo Uno Ma c'è un pezzo di dirt Sì Vabbè ci andremo Ci andremo Ok Allora Fantastico Allora Facciamo così Uh è cresciuto L'altro albero Fa niente Fa niente Fa niente Facciamo un legno Piazziamo questo Ok Aspettiamo Bisogna stare attenti Uno Due Tre Non di più Ok Intanto Abbiamo fatto Un achievement Cioè Infest Infest leaves With the Sailworm E Use croc Tra poco Anche questa Use croc On infested leaves To get String Abbiamo Con questo Abbiamo completato La pagina Poi dobbiamo fare Un sieve E un Barrello Così Per contenere Ma ho weather on Aspettate Si ho il weather on Però siamo nelle forest Tears Non so se piove Nelle forest Tears Comunque sia Ci vediamo dopo Ma ragazzi Si sta facendo Notte Non per dirvi E intanto Questo sta crescendo Allora Io direi di iniziare Abbiamo fatto Archivement Quindi Infest Use croc On leaves To get String Guardate Guardate Ok Abbiamo 44 String Ma niente Questa Non interessa E non lo sappiamo Bastardo Va bene Allora Facciamo questo Ok Un po' di Negnozza Allora Facciamo 9 E 9 18 Facciamo Un sieve Servono Due sieve Allora Il sieve Ve lo faccio vedere Si fa In questo Modo In questo Dell'ex Nihilo Questo qua È quello Automatico Che faremo Che faremo Più avanti Allora Lock sieve Si fa In questo Modo Allora Lock Wooden Plank Il silk mesh Il silk mesh Quattro legni Quattro Wooden plank Messa in questo Modo Oppure Si fa così Penso che è più Che dico Che dico chip Che dico chip Che dico chip Allora Così 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 E così Abbiamo Locks Si Ok Lo mettiamo qua E Possiamo Dormire Lo sapete È vero Ma è Fantastica Che cazzo Sto Combinando Ok Ok Che cazzo Sto Combinando Posso Saperlo Ok Facciamo Questo Boom No Ok Ok È Ok Si Si Abbiamo Abbiamo Cosa Però Non so Se Letto Infatti Morule Potrebbe Rivelarsi Un problema Però Non so Io lo metto Per Quasi Ma viene un po' Brutto Però O forse No Perché se Io Espando Ancora L'isola Molto Molto Ok Che cazzo Sto Combinando Ambele Grazie Stronzo Allora È Di Qua Facciamo Questo Non In quel Modo Così Bravi Va Bene Poi Questo Qua Spacchiamo Ho paura Della Vein Miner Perché Non ci Spandiamo Troppo E Andiamo A dormire Ok Allora Torchiamo Dopo No Cazzo Sto Combinando Spanato Dentro Un albero Ma porca Troia Allora Facciamo Così Torchiamo Ancora Intanto Uno Due Tre Facciamo così E poi Ci vediamo dopo Io sbaglio sempre a tastiera Dovrei cambiare il tasto L fa qualcosa No, non fa nulla Vorrei dire che metterò l'L fra No Ok, vabbè ragazzi Io mi sa che chiudo il video Perché sembra che siamo passati già 10 minuti Spero che questo video vi sia piaciuto Non abbiamo fatto un cazzo Intanto vedete il bon meal E' fatto il bon meal che cresce C'è praticamente la danza della dire Vabbè se volete facciamo ancora 10 minuti Però citiamo dopo Facciamo un po' di string E mettiamo un po' di string E mi è cresciuto un albero Intanto ho fatto 7 crocchi Facciamo così Ok K Non facciamo cazzare No No Cos'è questo bon meal Ok Ok Uno ce l'abbiamo Possiamo venire Perché non funziona No Ok Ok bene Ho capito Mi sono incazzato adesso Una lì Lo vedo Abbiamo due subling Vaffanculo Ok abbiamo questa dirt Cosa facciamo con sta dirt Allora Prima di siftare Facciamo così Facciamo un bel po' di slab Perché mi ha rotto le balle Esatto Mi ha rotto le balle Oggi non ho fatto un cazzo Mi sa che mi conviene farmare off camera Non lo so Vabbò Vabbò Farmiamo Cos'è che devo fare Tesso resto su questo Vado dentro Siv Cosa ci esce Wow Pumpkin seed E la stone Buono Facciamo una cobblestone Così abbiamo fatto la cobblestone Guardate un po' Craft sieve Craft cobblestone From the small drop stone From the small stone That drop from sifting dirt Ok E Ci serve un bel hammer Ozzolo Com'è bello l'hammerare Hammerare Ok Sto scherzando Ok Facciamo un bel hammer Cosa fa l'hammer? Allora Questo qua Lo martelliamo Diventa gravel La gravel Rimartellata Diventerà sand Viene qua Cucciola Viene qua E La sand Mantellata Diventa dust Quindi Aspettiamo che piove Mi è cresciuto Mi è cresciuto un hammer in faccia Ragazzi Ragazzi sta piovendo Intanto sono cresciuti gli alberelli Allora Io direi Spacchiamo qua Mi stavo espandendo Ok Facciamo un po' di Alberelli Buona Bella lì Bella zio Bella zio Stiamo messi bene Ok Così E un'altra Giusto per sfizio Un'altra Poi Usiamo K Facciamo la Vennminer Abbiamo 22 Alberogli Alberozzi Tra cui Vabbè 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 Guarda che ci penso a notte Però Non possiamo Allora Facciamo Le slab E Uno E Uno Due Facciamo Così Mettiamo Mettiamo Una Slab Qui 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 Ma ci va Il barrel Ok E questo Lo spacchiamo Questo Lo alziamo Di uno Ancora Bravi Ok E questo Facciamo Così Un altro Barrel Propongo Facciamo Una cosa Del genere Così Grazie Ok E qui Facciamo Accumulare L'altra Acqua Facciamo Una cosa Del genere Ok Quando Questo Un altro Dai Non perché Non voglio Così Facciamo Facciamo Clay E Facciamo Secchio Però Secchio Un bel Piccolo Problem Un bel Piccolo Problemoccio Non è perché Non perché Voglio esagerare Perché È utile E fa sempre Comodo Allora Questi qua Si iniziano a Refillare Bene Facciamo Altro Un po' Altro po' Che slab E Andiamo a Fare Mob Spawner Come vedete Qua Ho fatto Il ponte Stavo Scavando Ok Facciamo Il mob Spawner Da questa Parte Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Diciasette Diciotto Diciannove Venti Ventuno Ventidue Ventitré Ventiquattro E Venticinque Da qua Parte Il mob Spawner Però ci mettiamo Sopra Lo slab E Poi Da Da Staparte Ok Facciamo Una roba Del Genere Ho Finito La slab Ma Non Vi Faccio Pera Dai Allora Ok Questo Qua Senta 96% Spero Di Farcela Ok Facciamo Un bel po' Di slab 10x4 40% Dovremmo Farcela Sì Bella Li Facciamo Una cosa Del Genere Così E Spacchiamo Questa Ok Facciamo Una roba Del Genere In modo Che Spero Di Non Morire Così Chiudiamo Il Video Lo Monto Ovvero Carico Domani Siete Contenti Allora Facciamo Una cosa Del Genere Ok Ok Sarebbe Ne Brutto Qua mi Spawna Qua mi Spawna Devo Correre Allora Ok Qua Piena Di Vuota Prendiamo La dust Facciamo Tasto Destro Facciamo La clay La clay La spacchiamo Ok Facciamo I clay Bucket Questo qua Però È Unfired Che però È un piccolo C'è un piccolo Problema Non possiamo Contenere I liquidi Con questo Bucket Vedete Perché Secondo Voi Logicamente La clay Una volta Che è fatta Bisogna Essere Cotta Allora Quattro Ottimo Possiamo Continuare Ancora Uno Cazzo Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Noi abbiamo Finito qua Io vi faccio Il mob Spawner Spero che Questo video Vi sia Veramente Piaciuto Perché Ci stiamo Divertiti Intanto Io vado A farmare Un po' Di roba Faccio Mob Spawner E Vi reattacco Il video Appena Torno Intanto Cerco Di Capire Quanto Sono Quindi Ci vediamo Dopo Da casa Stiamo Tutto Ciao Vi rimonto Il video Ciao Ciao